È vero, un anno durissimo, aspetteranno ancora tanti anni di duro lavoro, però si ricomincia anche da manifestazioni come queste che possono portare in una giornata di ricordo anche un momento di allegria, di partecipazione, una gara importante di tanti atleti ma soprattutto la partecipazione della città dell'Aquila. L'arrivo sarà a donna, toccante, significante e anche lì un momento di gioia per fare la premiazione. Siamo pronti tutti quanti insieme per ripartire. È una gran bella manifestazione soprattutto perché è partecipata, c'è tanta tanta gente, ci sono anche campioni, ex campioni quindi diventa anche un elemento di agonismo, ma non solo, di partecipazione perché ho visto tante persone, anziane, bambini, giovani, gente che portava cani dietro. Insomma è una di quelle manifestazioni belle e importanti che servono per tenere accesi i riflettori sull'Aquila e soprattutto sui 308 morti che sono stati ricordati all'inizio. Questo anche in concomitanza con Vivi Città che si svolge oggi in tutte le città d'Italia, anzi in tante città d'Italia e che dà sicuramente la possibilità a noi ancora una volta di poter ricordare Unna che è stata davvero purtroppo il nostro centro più colpito dal sisma. Grazie!